Frate Leone, sostenendo dal demonio una grandissima tentazione spirituale, gli venne grande voglia di avere qualche cosa devota scritta di mano di San Francesco e pensava che se l'avesse quella tentazione si partirebbe in tutto o in parte. Cari amici, bentornati alla Barba di Aronne per questo nostro nuovo episodio. Il brano che abbiamo letto all'inizio è un brano dei cosiddetti Fioretti di San Francesco. Frate Leone, che sta in un momento di forte tentazione, chiede a Francesco uno scritto di suo pugno e a questa richiesta Francesco risponde scrivendo e consegnando la famosa cartula, una piccola pergamena che oggi è conservata nella Basilica Inferiore di Assisi e che riporta da un lato la preghiera conosciuta come le lodi di Dio Altissimo e dall'altro lato quella che molto spesso noi ricordiamo come la benedizione di San Francesco. Il Signore ti benedica e ti custodisca, mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te, rivolga verso di te il suo sguardo e ti dia pace. In realtà ovviamente questa, spero lo sappiamo bene, è una benedizione biblica dal libro dei numeri o per usare il suo nome ebraico dal libro di Bamidbar. Un passo fondamentale per l'ebraismo conosciuto come la benedizione sacerdotale, in ebraico la Birkat Kohanim. Le cerimonie, l'esteriorità, gli aspetti estetici non sono molto sviluppati nell'ebraismo. Le forme religiose ebraiche sono solitamente molto semplici, molto sobrie, preferendo la sostanza all'azione. In alcuni casi però la ricchezza dei gesti, la solennità degli abiti riaffiorano anche nella ritualità ebraica. Occasioni affidate al ramo più nobile del popolo ebraico, quello dei sacerdoti, in ebraico i Kohanim. Nel vedere di capire chi siano questi Kohanim dobbiamo subito partire chiarendoci una delle confusioni più classiche in cui come cristiani incorriamo quando parliamo del sacerdozio ebraico, che è quella di pensare che nell'ebraismo il rabbino sia il corrispondente del sacerdote, applicando ovviamente idee e schemi nostri. Ma in realtà quella del Kohen e quella del rabbino sono due figure ben distinte, sia per origini che anche per funzioni. Il sacerdozio deriva da una condizione che si acquisisce per diritto di nascita, per via patrilineare, riservata agli appartenenti della tribù di Levi e della tribù di Levi riservata ai discendenti di Aronne. Gli altri uomini della tribù di Levi fanno parte della classe dei Leviti, che avevano delle funzioni varie all'interno del sistema del Tempio. La linea sacerdotale continua anche oggi, anche se l'esercizio sacerdotale è sospeso nelle sue funzioni essenziali per l'assenza dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Il rabbinato invece nasce molto più tardi, senza limitazioni a condizioni di nascita, ma è conseguibile attraverso lo studio. Il rabbino intanto può essere definito come un maestro nella società ebraica e ha una serie di funzioni essenziali, quella educativa intanto, con istruzioni pratiche su norme e precetti, e quella di giudizio, che esercita prendendo parte ad un Bet Din, a un tribunale rabbinico, a cui se ne affiancano altre accessorie, come per esempio l'insegnamento della cultura ebraica tradizionale, l'assistenza, l'aiuto sociale, la direzione delle funzioni religiose pubbliche, come i matrimoni, le circoncisioni, i bar mitzvah, i funerali, il controllo dei servizi rituali, per esempio il controllo delle regole alimentari, e poi ricordiamo anche la rappresentanza politica della comunità, fungendo da portavoce con le autorità esterne. Per i Kohanim invece, come detto, il discorso è diverso. Quando ancora c'era il Tempio la loro funzione aveva un aspetto rilevante, ma la distruzione del Tempio prima e l'esilio e la diaspora dopo hanno velocizzato la perdita del potere sacerdotale. Ed è per questo che i rari momenti nella vita ebraica in cui i Kohanim hanno potuto mantenere, un ruolo di protagonisti onorati, sono stati conservati con estrema attenzione. E il momento sicuramente privilegiato è proprio quello in cui impartiscono al popolo la benedizione sacerdotale. Impartire questa benedizione è probabilmente il ruolo più importante che ancora oggi rivestono i Kohanim. Obbligo e diritto che in terra di Israele viene ancora esercitato quotidianamente, mentre nella diaspora è riservata a momenti speciali. Per gli ebrei di rito italiano, per esempio, è nelle feste, quando la gioia è così tanta da poter invocare e trasmettere la benedizione divina a tutti gli altri. C'è una normativa dettagliata che stabilisce ogni momento di questa benedizione. C'è ovviamente la formula, ma questa da sé non basta. Il sacerdote si prepara a proclamarla mettendosi in una posizione speciale, aspetta la chiamata dell'inviato dal pubblico e solo allora scandisce il testo che questo inviato gli suggerisce parola per parola. Il Kohen che benedisce rappresenta con le sue azioni un'elezione sacra mai interrotta e mostra la chiamata di Israele a raccogliere e a trasmettere la sacralità con un'invocazione di benedizione e di pace. In questo suo gesto il Kohen rappresenta il patriarca Abramo, a cui, come sappiamo, all'inizio della sua missione fu data una promessa di benedizione universale. Tra le cose particolari della ritualità della Birkat Kohanim ricordiamone adesso alcune. Intanto il Kohen impartisce la benedizione scalzo, senza scarpe. Ed è qui richiamata, dopo Abramo, la figura di Mosè, il primo ad essersi tolto le scarpe nella Torah. Sappiamo che Mosè si leva le scarpe mentre si avvicina a roveto ardente. Perché la terra che calpestava era Admat Kodesh, terra che appartiene al santo. C'è poi la Netilat Yadaim, il lavaggio delle mani. Qui, dopo Mosè, il modello è Aronne, il capostipite dei sacerdoti. È la ripetizione di un gesto antichissimo che si svolgeva all'interno del tempio e che, secondo la tradizione, va fatto risalire addirittura a Salomone, come una forma speciale e aggiuntiva di pulizia e di consagrazione di quella parte del corpo che per sua natura è più esposta al contatto con l'esterno. Un ultimo aspetto particolare e importantissimo è la posizione delle mani e delle dita durante la benedizione. Ovviamente è il momento più ricco di gesti. Indossato il tallit, il manto usato per la preghiera, vengono stese le braccia, le mani e le dita vengono aperte in una posizione che, come spesso avviene per l'ebraismo, non ha una spiegazione certa, un'origine ben precisa. Si dice, per esempio, che sia un sistema mnemonico legato appunto alla posizione delle dita e degli spazi aperti per ricordare la formula. Ma la tradizione ci consegna anche un'ipotesi più suggestiva, che parte dal Cantico dei Cantici, all'interno del quale noi leggiamo. Eccolo che sta in piedi dietro il nostro muro, che controlla dalle finestre, sbircia dalle fessure. Così come nel Cantico la donna si sente osservata di nascosto dal suo amante, ancora oggi il Signore osserva di nascosto il suo amore, Israele. Non lo fa più dalle fessure di un muro, ma nel racconto del Midrash lo fa nelle sinagoghe. Qui le finestre sono le spalle dei sacerdoti benedicenti e le fessure gli spazi tra le dita. Concludiamo cercando allora di tornare al nostro punto di partenza, quello di un figlio tentato leone che chiede aiuto ad un padre amorevole, Francesco. Quale può essere il legame tra questa richiesta d'aiuto e la spiritualità ebraica che passa nella Birkat Kohanim? Aronne, da cui come detto dicendo nei Kohanim, porta nel suo nome l'amore verso il prossimo. Per la tradizione ebraica il nome Aronne, Aaron, è la contrazione di Ahavah Rabbah, che significa amore grande. Ed è questo grande amore che fa rivolgere i Kohanim verso i propri figli per benedirli. Ancora oggi ogni settimana la sera di Shabbat è uso che il padre e poi dopo la madre e i nonni se sono presenti, stendano le loro mani sui capi dei figli che partecipano alla cena di Shabbat per benedirli, per chiedere a Dio che provveda le loro necessità. Un amore paterno che sembra spingere Francesco a chiedere a Dio di prendersi cura di leone in quel suo momento di tentazione e portare leone a fidarsi completamente di Dio. Nel nostro prossimo episodio partiremo da un'abitudine semplice e quotidiana di Francesco, quella di non voler mai spegnere il fuoco che poteva incontrare di sua mano in rispetto allo splendore di Dio. Da qui parleremo delle sinagoge, dei loro elementi più tipici, tra cui risalta il Nertamid, il fuoco eterno, che ancora oggi risplende davanti al libro della Torah, custodito nell'armadio santo. Per questa settimana io vi saluto, vi chiedo come sempre alla fine di ogni episodio, di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante iscriviti che trovate proprio qua sotto e poi ricordandovi anche di cliccare sulla campanella che apparirà, in modo che avrete notifiche per ogni nuova uscita e ogni possibile novità. Ci vediamo la prossima settimana con il Nertamid e le sinagoge. Leitraot.